Ciao a tutti, sono Michael e benvenuti in In Pods. Peter e Sarah stavano tornando a casa da un pub. All'improvviso, Peter notò delle luci che lampeggiavano nello specchio retrovisore. Stava per essere fermato dalla polizia. Sembra che Peter stesse oltrepassando il limite di velocità. Patente e libretto di circolazione, disse il poliziotto. Te l'ho detto che stavi andando troppo veloce, Sarah rimproverò Peter. Shhh, le disse arrabbiato. Vedo che la patente è scaduta, l'agente informò Peter. Peter dichiarò che non si era reso conto che aveva bisogno di rinnovare la patente e riesicurò il poliziotto che l'avrebbe fatto il giorno successivo. «Te l'ho detto due mesi fa che la patente era scaduta», esclamò la moglie. «Ciudi il becco», l'avvertì Peter. «E vedo anche che non ha pagato il bollo», disse l'agente. «Davvero», rispose Peter. «Di solito sono molto attento a queste cose. Non capisco come sia potuto accadere». «Ma va», disse la moglie. «Da più di un mese sai questo fatto del bollo». «Stai zitta una volta per tutte», Peter gridò alla moglie. «Su marito le parla sempre in questa maniera, signora», chiese il poliziotto. «Solo quando è ubriaco», rispose Sara. È tutto per ora. Alla prossima. Ciao.